Un saluto a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. Sono particolarmente contento di presentarvi una nuova nota risorsa per la didattica digitale, che apprezzerà chi tra voi già utilizza o conosce l'altrettanto nota risorsa Padlet. Che cosa andiamo a fare quest'oggi? Tramite questa risorsa al cui nome è Wakelet, sito di riferimento Wakelet.com, vediamo in poche mosse come creare una bacheca, un contenitore, all'interno del quale possiamo custodire immagini, links, testi, links a video, per poter poi condividere facilmente questa bacheca con i nostri alunni in modalità fruizione, oppure ancora possiamo rendere questa bacheca collaborativa. Bene, vediamo come fare. Sito di riferimento dunque nulla da installare, accediamo mediante browser Google Chrome o Mozilla Firefox in prevalenza. E poi Wakelet, che non nasce appunto al tempo della pandemia ma esiste da anni, ha, vedete, una sezione per insegnanti. Vado a fare un click proprio lì. Tra un istante vedrete che verremo ricondotti a Wakelet for Educators, una sezione interna sempre a Wakelet. E all'interno di questa sezione abbiamo il tasto verde sign up for free, da utilizzare per la prima registrazione. Dal secondo accesso in avanti sapete che è possibile cliccare su accesso, il famoso log in. Bene, e in questo caso io effettuo proprio l'accesso, perché la registrazione l'ho già fatta. Scelgo sempre nel mio caso il pulsante continua con Google, perché ho utilizzato, quando ho creato l'account, uno dei miei account istituzionali di Google Workspace, Google Suite for Education. L'account nel frattempo viene digerito da Wakelet. Se necessario ci viene richiesta la password, altrimenti, come sta accadendo a me, veniamo immediatamente ricondotti alla bacheca di Wakelet. E ringrazio con l'occasione la mia amica e docente della scuola primaria Stefania, che ha, ne abbiamo chiacchierato giusto qualche giorno fa, accelerato la messa in onda di questo mio videocorso. Vedete che ho già una raccolta bacheca creata su questo account, ne ho anche un altro, perché è una risorsa estremamente versatile Wakelet. Clicchiamo su Crea una nuova raccolta, immaginando di creare una bacheca dedicata a Dante Alighieri, da che nel 2021 celebriamo i 700 anni dalla sua morte. Osservate, è quasi una mini pagina web dedicata, e se notate, ed è ciò che io vi consiglio sempre leggere bene menu e informazioni a video, possiamo aggiungere una immagine di copertina, perché no? Un click, la carichiamo dal nostro dispositivo, la scegliamo da una libreria online, in questo caso Wakelet utilizza il servizio Unsplash, un servizio internazionale. Io scelgo, carica una immagine, e poi dalla mia cartellina dei download, lo vedete, vado a scegliere Ritratto di Dante, perché in precedenza avevo scaricato questa immagine. Abbiamo un cursore da poter muovere con il tasto sinistro del mouse, da sinistra verso destra, per eventualmente zoomare la nostra immagine di copertina. Ma a me va bene così, dunque faccio un click su Salva. E l'immagine di copertina è inserita. A questo punto inseriamo un titolo per la raccolta ed anche un sottotitolo, la descrizione. Click alla scoperta del sommo poeta. Inseriamo la descrizione con un click nella riga sotto. Dante Alighieri e la sua divina commedia. Vi faccio notare come questa bacheca sia, finché non lo decidiamo noi, privata. Ed è molto interessante perché per il docente Wakelet può anche essere un modo evoluto di gestire i preferiti, cioè colleziono qui dentro le risorse che metto da parte per usarle poi per le lezioni. Inoltre, scusatemi ma negli applicativi didattici è sempre importante. Io vi mostro la privacy policy di Wakelet. Abituiamoci sempre a leggere le condizioni di utilizzo di un'applicazione per la didattica di cui ci serviamo. Vi mostro che, attenti bene, qua siamo al punto 10. Per avere legittimamente un account, secondo Wakelet, occorre avere diciamo almeno 13 anni, cioè over 13, quindi più di 13 anni, per cui siamo tra la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Tuttavia, notare bene, i bambini sotto i 13 anni scuola primaria devono utilizzare Wakelet sotto la supervisione di un adulto responsabile, un insegnante, in realtà ci siamo noi. E quindi in realtà, vedete, gli insegnanti possono invitare anche gli studenti sotto i 13 anni a contribuire mediante la funzione collaborazione. Cioè, è importante capire che ci stiamo comunque muovendo bene, Wakelet è rispondente al GDPR, il regolamento europeo, per la privacy, e soprattutto, guardate, non vengono collezionate informazioni personali degli utenti sotto i 13 anni. Perdonatemi, qui devo fare l'esperto di turno, nel senso che anche questi punti vanno osservati, prima di mettere mano ad un applicativo per la DAD della DDI. Allora, inseriamo un pochino di contenuti. C'è un comodo più. Effettuiamo un clic sul più e guardate, riga bianca, incollo lì dentro qualsiasi URL, cioè indirizzo proveniente da una nostra risorsa web, ma guardiamo anche questi pulsanti, aggiungi un testo semplice, inserisci una immagine, segnalibili trascuro per un attimo, possiamo caricare un PDF, ebbene sì, all'interno di questa bacheca, e a cosa serve quel pulsantino apps? Perché possiamo anche linkare, utilizziamo questa espressione, no, italianizzata, possiamo prelevare qualche cosa da YouTube, da Drive, eccetera, eccetera. Allora, guardate, io prima ho preparato già un pochino di materiale su Dante Alighieri, ad esempio, segnalo che su YouTube, nel bel canale Treccani Scuola, ci sono già diverse clip video su Dante, e io scelgo la vita di Dante Alighieri, proprio tratta da Treccani Scuola. Con un clic ho messo in pausa al mio video, vediamo, clicco su Condividi, clicco su Copia per ricavare l'URL proprio di questo video qui, ho la mia schedina di Wakelet, guardate, clicco nella riga Incolla, clicco tasto destro, tasto sinistro su Incolla, e aspettiamo un secondo, in un attimo abbiamo la nostra clip pronta e confezionata, ancora su più. Vogliamo anche l'immagine che già abbiamo usato come copertina, molto bene, andiamo a fare un clic sul pulsante Immagine, su Carica un'immagine, preleviamo nuovamente, nel mio caso dalla cartellina dei Download, l'immagine scelta, ed eccoci qua, abbiamo anche un'immagine a nostra disposizione. Insomma, come vedete, è veramente versatile Wakelet, addirittura con un clic su Cambia Layout, io posso scegliere tra la visualizzazione multimediale, che è questa a scorrimento verticale, no, a rettangoloni, oppure una vista a griglie, perché no, potrebbe essere utile, oppure ancora con un clic su Mood Board, che è una bacheca accattivante, a me personalmente piace molto questa. Inutile dirvi, lo stiamo osservando, che Wakelet è particolarmente inclusivo, è indicato dunque anche per alunni con BES o DSA. E allora, la bacheca io la posso ulteriormente arricchire con un clic sul più, vedete addirittura c'è la possibilità di aggiungere un semplice testo, con addirittura un piccolo box, un piccolo riquadro per formattarlo, cioè per modificarlo mentre scriviamo, vado a digitare, Dante Alighieri è universalmente noto per aver concepito la divina commedia. Un clic su Fatto, per cui vari concetti riuniti in un unico contenitore. Attenti, come possiamo osservare, questa bacheca è privata, finché non cambiamo noi la modalità di visualizzazione. E allora, io che cosa posso fare? Un clic sulla tendina privata e poi, invece della modalità pubblica, io posso scegliere non in lista, solo chi ha il link può vedere la raccolta. Poi confermo con un clic su Fatto e la mia bacheca, il mio contenitore, è pronto. Come vedete, qui abbiamo una sorta di anteprima, no? Riepilogo della nostra bacheca alla scoperta del Sommo Poeta e perché abbiamo questi tasti? Guardate, perché il tasto freccia, ricurva verso destra, clic, condividi questa raccolta, ci permette di esportare come pdf la nostra bacheca. Dici, ma come mai? Perché così, pur non avendo la multimedialità, io posso avere una scheda riepilogativa, uno storyboard. E si fa anche storytelling, dunque, con Wakelet. Oppure ancora, posso generare un efficace QR code e proprio sul QR code, trovate un videocorso dedicato qui sul mio canale TrainerAndrea. Cercate il videocorso su QRMonkey con la Y finale. C'è anche la condivisione diretta con Classroom, ad esempio, o altri applicativi, ma in realtà io vi consiglio di fare un clic su Copia e poi di inserire quel link a mano nello stream o nella bacheca di ambienti di restituzione, quali, per esempio, non so, Themes, WeSchool, Classroom, appunto, e così via. Vado a chiudere questa piccola finestra con X. I tre pallini a che cosa servono? I tre pallini servono per cambiare eventualmente al volo la visibilità, da non in elenco, di nuovo a privato, pure pubblica, o a eliminare questa raccolta. Alla stessa maniera, perché abbiamo un pulsante in vita? Perché qui abbiamo l'accesso in modalità cooperativa dei nostri utenti. Io invito i miei alunni a collaborare a questa bacheca facendo che cosa? Beh, inviando loro questo link, infatti ho cliccato su Copia il link, oppure ancora salvo e faccio loro inquadrare quel QR code, se usano un dispositivo mobile, oppure ancora sapete a cosa serve questo codice alfanumerico con lettere e numeri? Serve perché un alunno può anche direttamente andare su wakelet.com, c'è una voce in alto che consente di inserire immediatamente un codice e con quel codice riceve un invito come collaboratore. Fermo restando, lo osserviamo, che cliccando su tramite nome o email, io posso tranquillamente inserire l'indirizzo email di quel singolo alunno o di quegli alunni che saranno i collaboratori. Vado a chiudere ora questa finestra con X. Vi mostro anche che cliccando su Home, in alto a destra, torniamo alla bacheca generale, dove osserviamo le diverse raccolte e siccome nel tempo ne potremo fare un po', ecco che a nostra disposizione c'è anche la comoda ricerca per raccolte, utilizzando che cosa? Le parole chiave. Insomma, una risorsa veramente utile e preziosa. Perché? Intanto perché è una risorsa free, completamente free, non ci pone in questo senso dei limiti nella creazione di bacheche o nel poter invitare i nostri utenti, è semplice, ha questi rettangoli ben spaziati, caratteristica insieme ad un certo tipo di carattere ben leggibile che considero utilissima proprio per l'inclusione. E dunque non mi resta che augurarvi una buona prova pratica su strada proprio di Wakelet, concludo ancora dicendovi che abbiamo le app di Wakelet scaricabili anche in mobilità da Play Store per i dispositivi mobili Android o da App Store per i dispositivi mobili Apple. Quindi possiamo definire Wakelet anche una risorsa multipiattaforma, ottima per la DDI. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione e la stima che mi tributate, vi do già appuntamento al prossimo videocorso e sempre un caro saluto a tutti e a tutte voi da Andrea Cartotto. Ciao, buon divertimento con Wakelet!